Come gruppo di ricerche di ontologia relazionale abbiamo deciso di dedicare questa giornata alla figura di Don Giussani, soprattutto al primo libro del percorso, il senso religioso, perché ci sembra che lui ci stimoli a pensare con grinta in questo momento in cui ci troviamo tutti immersi in una società postmoderna, post cristiana, come è stata chiamata da più parti. Don Giussani ci aiuta proprio a stare nella gioia, nella profondità dell'esperienza cristiana e quindi a comunicarla per quello che è realmente. Don Giussani ha avuto il dono di saper proporre la fede, di saper mostrare come in Gesù Cristo si compiono le attese più profonde del cuore dell'uomo. Il senso religioso è l'espressione ultima per Don Giussani della ragione, potremmo dire nel senso religioso l'uomo assorge alla pienezza della sua statura. Ci aiuta a considerare la meraviglia che l'incontro con la realtà suscita in ciascuno di noi e a mantenere la differenza tra ciò che è virtuale e controllabile e ciò che invece ci stupisce perché ci viene incontro ma non ci appartiene immediatamente. Credo che Don Giussani, rispondo e non vuole essere assolutamente una battuta, abbia il senso religioso che abbiamo tutti noi. Ognuno di noi guardando la sua vita con un po' più di attenzione si accorge che nella sua vita c'è una domanda di significato ultimo a cui dà una risposta. Don Giussani ha avuto la capacità di riconoscere questo e di capire un po' di più l'apertura dell'uomo all'insinito che è il senso religioso e la risposta che l'uomo dà quale conseguenze e conseguenze positiva e negativa hanno nella vita.